...per tenere Patti fuori dal carcere e andare avanti. Dov'è Patti? Non doveva togliere la fasciatura? Sono qui. Signora Armstrong, sono felice di incontrarla finalmente. Mascella rotta, dieta liquida. Doveva aver perso 30 chili. Era come un diamante grezzo. Una reginetta di bellezza in procinto di sbocciare. La mia possibilità di redenzione. Avevo solo una domanda. Patti? Quali sono i conflitti che ti stanno più a cuore? Aleppo? Il conflitto arabo-israeliano? E non mi faccia parlare delle violenze ad Haiti.